Sinceramente sono molto emozionato, sono emozionato perché mi sono chiesto più di qualche volta se riuscivo a evitarmi questo. Non so neanche perché sono qua, ve lo dico veramente, è una cosa vera, non è che uno dice mi sono preparato un discorso, no, non mi sono preparato niente. Cioè io mi sono trovato che, io ho fatto tutta la mia carriera in Confindustria, ho fatto sempre l'imprenditore e non ho mai avuto una tessera politica, lo dico sempre ma vorrei ricordare che è vero e tantissimi italiani sono in questa situazione. E mi sono girato sempre dall'altra parte, cambiando voto più volte, perché speravo sempre, perché la gente comunque ha fiducia delle persone, cioè c'è di base una fiducia nel nostro paese, siamo buona gente. E poi puntualmente mi sentivo tradito, deluso, cioè non funzionava, la cambiavi, cercavi sempre, quell'elettorato liquido è sempre più grande questa massa. Finché un giorno a Venezia è successo che mi sono vergognato da veneziano, quando ho sentito i dati che il commissario ci dava sul bilancio del comune di Venezia e c'era un debito per la città di 800 milioni di euro. E io sotto a casa ho parlato con Stefania e ho detto Stefania io non riesco più a girarmi dall'altra parte, ero stato come tramortito da questo debito immenso che stavamo scaricando sui giovani. Una città che è una meraviglia, che ha sempre avuto tanto, com'era possibile costruire un tale disastro? A parte le conseguenze giudiziarie e altre cose, ma c'era proprio la fondamenta dell'incapacità, la non capacità di gestire i grandi numeri. Non basta essere una persona onesta o per bene, bisogna avere le competenze per fare le cose. Non basta che io sono onesto e buono, non posso guidare un aereo se non lo so fare. C'è gente che va a fare i ministri senza avere le competenze minime e accettano l'incarico. Questo è il dramma più grande. E allora ho detto alla Stefania, Stefania io ti chiedo scusa, ho chiesto scusa ai miei amici, ho detto ci offenderanno, ci accuseranno, ci oltraggeranno. E' andato esattamente così. Però ho detto, io non me la sento più. Ho chiamato Squinzi, che ero nel direttivo nazionale di Confindustria, ho detto ora io mi dimentico perché devo servire la mia città. In 15 giorni abbiamo fatto una campagna elettorale con una lista civica. Ho trovato, avevo proposto a tutti i partiti, ho detto facciamo, io ingenuamente non sapevo come funzionava la politica, ho detto facciamo un comitato di salute pubblica, ho chiamato il PD, ho chiamato Forza Italia, ho chiamato la Lega, ho chiamato Fratelli d'Italia. Tutti quanti sì ci pensiamo, sì ci pensiamo. L'unico che mi ha portato da Marco Marin, che era il coordinatore quella volta di Forza Italia in Veneto, è stato Brunetta, che conoscevo perché era ministro veneziano, che ancora oggi difende la nostra città. Anche i meriti vanno sempre detti, a prescindere dall'appartenenza, alle casacche, i meriti vanno riconosciuti sempre. Mi ha portato da Marco, ci siamo conosciuti lì, ci conoscevamo così di vista, ma abbiamo fatto un'interlocuzione tra persone, abbiamo scoperto che lo sport per noi è merito, è coraggio, è capacità di subire anche le sconfitte e rialzarsi. Cioè lo sport non è vincere, lo sport è imparare a saper perdere, a saper lottare, perché in quel percorso è la bellezza, il sabato del villaggio piuttosto che poi la speranza o il palco. Il lavoro continuo che deve essere divertimento e soddisfazione personale, è intima questa cosa, però chi la sente sa che è un fuoco dentro che ti fa vivere, è la vita stessa. Marco mi ha portato a Berlusconi che io non conoscevo, non ho mai conosciuto, e in un colloquio mi ha dato fiducia, quel tempo Forza Italia e Venezia valeva circa l'1,7%, il 2%, niente. Io ho preso tre sondaggisti, abbiamo verificato, questi si sono messi a ridere, non faccio i nomi, ma insomma, io ho detto voi pensate a fare i sondaggisti che io vado nelle periferie. In 15 giorni siamo andati con tanti amici che ho trovato per strada, persone che conoscevo, perché non si voleva candidare a nessuno. L'unico che mi ha dato fiducia è stato Marco. E ancora oggi siamo con Marco a discutere di queste cose, con coraggio, perché ci abbiamo messo la faccia, abbiamo già vinto, hanno già fatto le pagine sui giornali, loro avevano già vinto. Al primo turno un magistrato, che tra l'altro esercitava in quel collegio, magistrato di sinistra, che insomma è stato sconfitto, è stato mandato al ballottaggio, ma ancora avevano vinto, avevano già preparato comunque i festeggiamenti, nessuno mi ha dato l'apparentamento, e da solo ci siamo andati a prendere i voti, insieme a tanti amici di viaggio che sono ancora qui e sono ancora consiglieri di questa meravigliosa città. E noi in cinque anni, vi dico un dato per farvi capire, a parte le offese, gli oltragi di ogni genere, credetemi senza nessun motivo, soltanto la paura che la gente normale potesse comandare, soltanto la paura che i cittadini potessero vedere che si poteva abbassare il debito pubblico. Beh, in quella città in cinque anni abbiamo abbassato il debito pubblico da 800 milioni di euro a 720, vuol dire 80 milioni di euro in meno di debito per i bambini del futuro. Nessuno mi darà un voto per questo, ma 80 milioni non sono 8 e non sono 800 mila, ma se lo dice una persona normale, nei suoi equilibri, fa fatica a comprendere le differenze di cifra. Ma vuol dire che questa cosa si può fare, cioè si può amministrare bene, si può far ricadere efficientando, capendo bene come sono i contratti di lavoro, capire dove si può aumentare la produttività, cosa si può chiedere, dove si deve investire, come si può tagliare la spesa veramente inefficiente, che non serve. Qui il problema è la capacità organizzativa del paese, non è un problema di cattiva volontà, è di incapacità cronica a mettere i migliori nei posti giusti. Quando voi andate da un medico, io lo insisto su questo concetto, non vi interessa mai, pensateci un attimo, non vi interessa niente di che religione è, non ve ne frega niente di che figlio, non vi interessa niente di che tessera ha, volete che sia bravo, che salvi il vostro figlio, che lo guarisca bene. Queste sono le meritocrazie che dobbiamo portare, noi non faremo mai niente contro nessuno, noi vogliamo semplicemente rimettere al centro le capacità delle persone, il cuore delle persone, la testa e il cuore delle persone, per fare questo ci vuole coraggio. E io facendo il sindaco, ormai sono sei anni che faccio il sindaco, che tutti trascurano questo piccolo dettaglio, che lo faccio gratis, se io non percepisco nulla, nulla, lascio tutto alle associazioni di volontariato, abbiamo fatto anche delle gare pubbliche per affidare dei progetti, i miei stipendi, o cioè quello che prendo, perché non ho preso niente, non ho preso neanche i contributi della pensione in stai sei anni, quindi faccio tutto gratis, anche oggi sono qua a spese mie, e continuerò così. Dici, ma te lo puoi permettere? Sì, ma è un esempio. Dico, quante persone fanno del bene, ognuno deve fare il conto lui di cosa fa per la nostra città, per la nostra nazione. E in questi sei anni ho scoperto che non era un problema solo di Venezia, io ero convinto che eravamo noi, che forse con l'acqua salata ci eravamo un po' persi di testa. Purtroppo ho capito che il mare circonda tutta l'Italia e ci siamo persi tutti. Questa situazione veneziana è diffusa in tutta Italia. Noi dobbiamo recuperare un po' di raziocinio su questa roba, e dobbiamo essere determinati a pensare ai bambini. Non ci pensa nessuno perché non votano, e soprattutto a quelli che non sono ancora nati. E dobbiamo pensare a quelle comunità del lavoro, dei lavoratori, degli imprenditori che sono completamente da soli ad affrontare la globalizzazione. Siamo da soli contro tutti, gli altri stati sono organizzati. Io ho delle attività in Brasile. Quando arrivano i tedeschi, arriva la Merkel, arrivava adesso passerà a qualcun altro, ma arrivava la Merkel in prima persona con tutti i ministri, con le ambasciate a disposizione, facevano le feste, invitavano i clienti. Arrivavano i francesi, arrivava a Hollande con tutta la stuora, facevano le feste e chiamavano i clienti. Arrivavamo noi italiani con la bossiglia di prosecco da soli, come carogne, e continuiamo a vincere sui mercati. Pensate cosa saremmo in grado di fare se avessimo uno stato organizzato. Adesso abbiamo un'occasione storica di avere una persona che guida il governo, sì ci voleva una pandemia secondo me per farlo passare, perché è qualcosa di inimmaginabile, una persona che ha credibilità internazionale. Che ha salvato il paese in Europa, che se l'è meritata tutta, e sta governando questo paese. Ma è da solo. Quanto durerà sto uomo? Qui c'è bisogno di spiegare alla gente l'importanza. Ormai è drammaticamente urgente capire che dobbiamo riprendere in mano il controllo del paese. Guardate che l'appello che dobbiamo fare, lo faccio a voi che siete già schierati, qui sono presenti persone, amministratori, amici, simpatizzanti, persone che credono nella politica, quella sana, da 65 province d'Italia. C'è il centro, il nord, il sud, le isole, siamo rappresentati tutti, non c'è un nord contro il sud. Siamo persone, siamo amici, siamo parenti, siamo la stessa nazione. È incredibile che ancora ci vogliono dividere. Ci vogliono dividere. Siamo nati da città diverse, da specialità diverse, da tradizioni diverse, ma il nostro futuro è insieme. Siamo una grande squadra. E questa squadra deve essere vincente. La gente vuole vincere. Noi siamo stanchi di perdere sui mercati internazionali, di sentirci soli. Le risorse dei recovery plan, dobbiamo investirle per la stragrande maggioranza al sud. Perché è il sud che ha bisogno di credere che l'Italia c'è. Lo dico io che sono veneziano del Veneto. Al sud, al sud devono fare le micro opere. Ci sono strade che per fare 100 km ci metti due ore e mezza. È indecente sta cosa. Ma non è un vantaggio solo per le persone che abitano nel sud o sulle isole. Lo so bene io cosa vuol dire essere illusi da politicanti che offrono cose che non hanno. Debito ti offrono. Gli 80 euro, le pensioni, le paghette sociali. Non ci sono quei soldi. Stanno facendo debito per le prossime generazioni. Stanno firmando a segna vuoto. Pagheranno i nostri bambini. I bambini che verranno. Allora io dico facciamo delle micro opere. Investiamo dove le persone. Però dobbiamo dire basta a quel falso ambientalismo. A quelle persone che si mettono il cartello. Io sono buono. E io sono cattivo. Se non mi metto il cartello il cattivo sono io. Cioè ma scusate. Cioè perché uno urla allora ragione di più. E qui cartelli no ai termovalorizzatori. A Venezia negli ultimi tre anni siamo la città numero uno per la raccolta differenziata. Però c'è una parte che non si riesce a differenziare. Si chiama indifferenziata. CSS. Cosa si fa del CSS? La tecnologia migliore ambientale. Che dicono i movimenti seri ambientalisti del nord Europa. Tedeschi. Norvegesi. Danesi. Svizzeri. Sono i termovalorizzatori. Devi termovalorizzare. Per cui recuperi dentro il ciclo. Il ciclo chiuso dell'ambiente. Devi per forza di cose affrontare il tuo problema con la tecnologia. L'alternativa sono le discariche. Una cosa pessima perché abbiamo sperimentato tecnicamente che poi alla fine percolano e alla fine arrivano le falde. E lì arrivano le atrazine e poi ci ammaliamo. E poi ci sono i tumori e poi le leucemie e poi ammazziamo le nostre generazioni. No c'è una terza via. Lasciare la spazzatura per le strade che la mangiano i cinghiali. Ecco questa è la situazione dell'ambiente. Bisogna avere coraggio e dire le cose. Si devono fare. A Venezia, sempre per parlare di una cosa così. Le barche, noi viviamo sull'acqua. Le barche hanno bisogno di acqua per andare. Ma se tu non pulisci i canali, non togli il limo che si deposita naturalmente, tu stai affossando il futuro della città. Stai ammazzando la città. E bisogna dirlo. E invece si vive di paure. Non si scava perché si inquina, sta attento, more tutto e si creano le paure e le angosce. E per cui nessun politico ha il coraggio di dire si fa. E io l'ho fatto. E ho avuto ragione. E continueremo a farlo. Perché la vita a Venezia deve continuare. E deve continuare con rispetto dell'ambiente. Perché se ci sono degli inquinamenti vanno affrontati e vanno puliti. Se ci sono delle acciaierie che non funzionano, si migliorano le acciaierie, non si chiudono. Perché noi abbiamo bisogno di acciaio per le fabbriche. Perché se non c'è il lavoro, noi non potremo vivere di miseria. La decrescita felice non ci porta da nessuna parte, non c'è nessuna felicità nella miseria. C'è il conflitto sociale. E alla fine chi perde questo conflitto sono proprio i più deboli. Quando parliamo di sicurezza, nelle città, la sicurezza va assieme alla pulizia, al decoro. Non è una cosa da snob. È per difendere la gente che abita nelle periferie, nelle case dove sono le porte di cartone. Perché è lì dove va il malaffare. Non va nelle ville che sono protette dai sistemi di sicurezza. Quando parliamo di sicurezza, andiamo ad affrontare i problemi delle persone che hanno più bisogno. E a quelli non gli dai la droga della paghetta, gli dai la dignità del lavoro. Lo aiuti nel momento in cui ha bisogno, ma poi gli dai le occasioni per essere libero. E gli dai l'ascensore sociale, perché non importa uno se è figlio di un operaio o è figlio di un ricco. Dipende da cosa vorrà fare lui e deve rispondere lui della sua vita. E noi dobbiamo dargli le opportunità. Moderati, sì, ma incazzati forte su questa roba qua. Dobbiamo andare nelle periferie, perché la sinistra ci ha detto che nelle periferie ci sono i problemi del paese. No, io vengo dalle periferie. Nelle periferie c'è la vita, ci sono le famiglie, ci sono i bambini, si gioca. A casa mia io ho vissuto felice in periferia. Sono loro che vedono un problema sempre dappertutto e hanno bisogno dei bisognosi per doverli difendere. E più poveri ci sono e più loro avranno consenso. No, noi dobbiamo fare invece le merce nel nostro paese. Noi siamo un grande paese. Dobbiamo dare quelle possibilità che abbiamo ricevuto noi, dobbiamo dare ai bambini di oggi. E a parte i colori, gli slogan, da adesso ci si mette in moto e l'appello è dobbiamo moltiplicare per cento i nostri sforzi. Dobbiamo andare casa per casa, campanello per campanello. Internet, televisioni, cartelli. Quello che possiamo fare, dobbiamo fare una grande raccolta di persone che vengano con noi, che ci mettono la faccia. Abbiamo un'occasione storica, non possiamo perderla. Grazie perché avete coraggio, avete fatto chilometri per venire qua stamattina. E so che avete altro da fare. Grazie per quello che fate. Grazie per il vostro impegno, grazie per la vostra fiducia, grazie per il vostro coraggio. Grazie per la vostra fiducia.